L'aspiratore Gemi è stato installato all'ambiente Tinello, una villetta unifamiliare alla periferia pedicolinare della città di Bologna. La sua installazione si è resa necessaria per roviare l'inconveniente del fumo nell'ambiente, conseguente a una canna di scarso tiraggio e a un'ansa a gomito presente nella stessa. Già a media velocità il tiraggio è notevolmente ottimale. Come si può vedere, sopra al cammino è stato installato l'installatore Gemi. Con alimentazione attraverso un cavo all'interno della guagna in dotazione, una scatola di derivazione presente nel sottotetto stesso.